Domani, cioè venerdì 12, sabato 13, sarò al Games Week a Milano, allo stand Tom's Network, ci saranno anche Marci, Loco, Buddy, se volete venire, venite, mascherine che facciamo magari qualche foto assieme, qualche autografo e se avete qualche fan art portate. Il buon Marci ragazzi ha sfiato in questo mondo, allora io ho fatto una cosa ancora più bella, gli ho rubato l'account e sono entrato direttamente appunto sul suo mondo, l'ho preso, l'ho fatto mio per sfidarlo, per vedere chi sarà il migliore a scavare minerali degli youtuber. Perché come notate ragazzi, qua davanti abbiamo il Buddy che sembra in diamante, ma abbiamo Nico, Marci, Fere, Steffo ed eccolo qua, il buon DeMarc, di un colore marroncino che assomiglia anche molto alla mia felpa, ragazzi. Quindi benvenuti a vedere in questo nuovo video, oggi salutiamo Francesco Ismail e Morena che hanno commentato lo scorso video di Minecraft con l'hashtag Minecraft Ita e se volete essere saluti anche voi mi raccomando, dovete dirmi qua sotto nei commenti quale secondo voi è il miglior minerale e soprattutto ragazzi commentare con l'hashtag Minecraft Ita, ma non è questo problema. Perché noi oggi appunto dobbiamo sfidare Madamarci e dobbiamo vincere, dobbiamo vincere, queste qua sono le regole, dovremo scavare in profondità nella caverna ragazzi, quanti minerali degli youtuber e io non vedo l'ora di sfidarlo, leggiamo assieme questi cartelli. Imposta la modalità pacifica, già fatto ragazzi, già fatto, già fatto, prendiamo il nostro amico contenuto delle chest, ci sono un po' di blocchi, un po' di ender pearl, un bel po' di picconi ultra potenti, guardate che bomba, poi abbiamo anche dell'acqua. E anche un bellissimo libro ragazzi che è il timer settings, ok molto 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 bene. Poi dobbiamo fare slash reload, molto bene ok, poi apriamo il libro e prendiamo su stop e ci compare la barra del tempo qua in alto. Poi vediamo, apri nuovamente e imposta il timer in 15 minuti, vai allora 1, poi 2 e poi 3, siamo pronti ragazzi, 15 minuti già belli che impostati. Allora non vale fare branch mining quindi non vale scavare tutto quanto dritto, va bene, va bene, va bene, va bene. Dopo che tutti avranno fatto video decideremo il vincitore, ottimo, ogni minerale vale un punto, esempio se Marcio trova Santa Loco e Kendra ne trova 32 e vince Marcio, ok molto molto bene. Allora ragazzi, siamo pronti a partire direttamente in questa nuova sfida, 3, 2, 1, partiamo, partiamo, abbiamo 15 minuti da ora e devo trovare già una caverna. Non voglio scavare verso il fondo ma voglio subitissimo trovare una caverna e spero che qua in giro ci sia qualcosa, magari in zonzo, in giro qua per il villaggio, là c'è una bella, uh c'è una bella spaccatura, una bella, uh buongiorno. Allora ho buttato un occhio al video di Marci ragazzi e ho visto che i miei erali scavano, bisogna trovarli in realtà molto in profondità, in una profondità di 30 quindi dobbiamo iniziare a scendere, vediamo se di qua, bella, non è un ingresso caverna, aiuto dove forse scavare così verso il basso, vabbè scaverò un attimino verso il basso, oh ma qua c'è una spaccatura, mmh, proviamo a vedere se già riusciamo a trovare una caverna da qualche parte, se no non trovo una caverna signor Madame Marci, dovete perdonarmi questa cosa ragazzi se no era un disastro, buongiorno, 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 c'è una caverna? Aiuto, quello era un Madame, no era un DeMarc, ma con quale probabilità trovavo anche io come primo minerale DeMarc e Roby, ok ottio, molto bene, allora devo trovare assolutamente una caverna, questa mi sembra molto più cavernosa ragazzi, è morto un Glow Squid qua povero, allora posso scendere qua sotto direttamente? Vediamo se c'è qualcosa di interessante, allora di qua si scende, di qua poi si risale, non mi sembra molto interessante in realtà come caverna cavernosa, buongiorno, c'è qualcuno? No di qua da dove sono sceso, di qua da dove sono salito c'è pure il gatto del villaggio, mmh, mi stanno molto molto male la caverna in questo momento, qua non c'è nient'altro? Uh, aspetta, c'è una spaccatura? Buonissima, allora proviamo a scendere un attimino al volo ragazzi, lanciamoci da qua e vediamo se già qua sotto vediamo qualche minerale, perché sarebbe ottimo già trovare qualcosa di interessante, è molto alto un Glow Squid Ma non c'è niente neanche qua, dannazione, non vedo neanche un minerale di uno youtuber, zero! Sto provando anche a scavare in giro ma non vedo nient'altro, belli questi, io sto trovando solamente quelli di The Mark ragazzi, è solo questa cosa, non credo sia fatta apposta, non mi sembra proprio neanche fatta apposta, allora Di qua si va verso la Blackstone, qua c'è quello di Marci che ancora non l'avevo mai trovato, molto molto bene, buongiorno, signor minerale del bomba da Marci, buongiornissimo Allora abbiamo trovato quattro Roby, un bel po' di The Mark in realtà ad essere onesti, non lo so se questa cosa qua è dettata dal fatto che sono ancora abbastanza alto, 22 più o meno di altezza Uh, Badders abbiamo qua davanti, io Badders lo chiamo Badders, non so perché, allora qua molto molto bene, qua abbiamo trovato roba, qua abbiamo quelli di Fere, finalmente ragazzi quelli di Fere, dannazione non li troviamo mai quelli di Fere Poi abbiamo quelli di Kendall, anche quelli di Kendall sono di pacca, altri del bomba da Marci, di qua si continua, mi sa che ho trovato una bella vena, uh anche quelli di Steffo Ma c'entra qualcosa il collezionare poi quelli diversi o proprio una somma finale ragazzi, non so se per esempio alcuni hanno, uh quelli di Fere erano nascostissimi Ottimo, ottimo, prendiamo e prendiamoli, non dicevo, non so se hanno dei valori diversi uno dall'altro oppure no ragazzi, questo lo scopriremo molto più avanti Allora qua abbiamo quelli di Kendall, poi, no, l'apis non ci interessa ragazzi, oh ma questi quelli di loco si nascondevano in alto Allora, credo che abbiamo trovato quasi tutti i diamanti, cioè i diamanti, sì dovrebbero essere diamanti youtuber tecnicamente Diversi tra di loro, quindi raccogliamo più roba possibile, anche questi quelli di Steffo che erano belli che hanno nascosti Qua c'è della lava, uh guarda, quelli di loco ragazzi sono quelli più cattivi perché sono quelli che si nascondono di più di tutti quanti Eh guardalo, guardalo loco che mi scappa via come, come una volpe, qua non c'è niente Stavo per rischiare di morire ragazzi, il vostro amico dei Mark stava per fare una bruttissima fine Allora, riprosseguiamo, risaliamo un attimino, guarda Marci qua che mi vuole pure scappare anche lui Ne ho trovati pochissimi di Marci, solamente cinque Siamo messi molto male, il tempo stringe ragazzi, siamo già dieci minuti di tempo Guardate qua il nostro campioncino, bella faccia che si nasconde pure lui Allora, proviamo ad andare da questo, da qua siamo arrivati, no è vero? Siamo, uh guarda Marci che si nasconde qua sotto Noi lo raccogliamo invece, buon Madame Marci Perfetto, di qua c'è qualcosa di interessante magari, perché sul soffitto io non guardo mai Ma in realtà se ne nascondono moltissimi anche sul soffitto ragazzi Quindi stiamo molto attenti, belli accorti, ogni minimo dettaglio di qua si può scendere ancora C'è della Blackstone, guarda qua, il nostro campioncino Buddy Che si nasconde pure lui, come si permette a nascondersi Ragazzi abbiamo solamente dieci minuti, mi sento un pochino in difficoltà Cioè ce ne sono un po' all'in alto di Nico ma io non vedo un tubo secco, ne vedo pochissimi Allora, l'importante è non morire perché se moriamo ragazzi succede un patatrack Perché se no perdiamo così la caverna, perdiamo anche tutte quante ste risorse E in realtà mi sento aver trovato una bella vena di minerali comunque di youtuber Quindi tanta tantissima roba, continuiamo così a cercarle Adesso deve risalire un pochino così di superficie perché se no non ne trovo Ma guardate come si nascondono nella roccia tutti quanti i minerali di ferie Buddy, de Mark che si nasconde pure, guardalo Ok, mamma mia, quelli de Mark ragazzi sembrano quelli più facili da trovare Non so se è appunto una cosa che sembra quasi fatta apposta Quasi, però non credo sia fatta apposta come cosa Allora, proviamo a vedere un attimino Ah, guardali qua, altri de Mark e altri di Robby Quelli viola di Robby sono super super carini Allora, raccogliamo anche questi, vediamo come si è messo un attimino Non male, non male Marci mi sembra che ha detto che non ha fatto vedere quanti ne ha trovati Non lo so neanche io, quindi ragazzi Non gli ho neanche chiesto, non so nulla Io so solo che sono entrato dentro a Saccount Gli ho rubato direttamente il mondo Ed eccomi qua nel suo mondo Allora, vediamo se riusciamo però a vedere di qua se c'è qualcos'altro Non lo so, non mi sembra di trovare robe interessanti A questo lato, quindi mi sa che devo andare a scavare Da un altro Uh, di questi sono quelli di fere Di qua non sono ancora andati, in effetti Molto bene Altre bene, no, lì c'è il bronzo Kendal Quelli di Kendal hanno trovato i pochissimi Quanti ne ho di Kendal In realtà ne ho già sette Quelli di Steffo sono quelli che ho trovato i meno insieme Quelli di Bella Faccia Quelli di Loco li sto trovando piano piano sempre di più ragazzi Quindi molto molto bene, tanta tanta roba Qua quelli di Robby che si nascondono un sacco Eccoli, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti Il ferro diciamo che non conta se non mi sbaglio Però continuiamo a raccogliere anche questi qua di Loco Ok, vediamo se c'è qualcos'altro di utile da qualche parte Allora, di qua ne siamo arrivati Quindi, di qua Il mio naso da DeMarc il fiutatore seriale Trova altri minerali di Robby Che sono quelli che ho trovato i più insieme a quelli di DeMarc Quindi vediamo Eccoli qua, li chiamo Ed eccoli qua Pronti al servizio del loro padrone Allora, di qua c'è qualcosa interessante Mmmmm Di qua si sale E se non mi sbaglio, Marci Nel suo video dice che è sotto i 30 Che si trovano i minerali più interessanti Piuttosto, quindi proviamo a No c'è un No ragazzi, pensavo fosse uno di quelli Axoth Iper rari Mi è venuto un infarto Cioè, era come se fosse sponato in natura Stavo letteralmente per impazzire Allora, vabbè, fa niente Non è il core del video Non è la cosa importante da trovare nel video Gli Axoth rari Allora, diamanti di Loco Altri diamanti del buon Madame Arcioso Vieni qua, Madame Arci Allora, qua ho trovato qualcosa Sì, altri minerali di Marci Uh, eccoli là Robby Bella facciala in fondo noto Molto, molto bene Questi piccoli qua sono molto potenti Però, se magari la Gravel non desse tutto quanto questo fastidio Ci potrebbe dare una mano magari Eh, quindi Uh, qua ci sono anche quelli di The Mark Non facciamoci riscappare Che ci servono Ok, molto bene Molto, 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 molto bene Allora, andiamo Proseguiamo altri Bella faccia Finalmente Ne ho trovati un po' di bella faccia, ragazzi Perché se no è un disastro Non li trovo mai Cambiamo un piccone Allora, buongiorno Buongiorno, buongiorno, buongiorno Buongiorno Quanti ne ho, ragazzi? Allora, ne ho un bel po' Ottimo Rissaliamo perché abbiamo quelli di Robby Ci mancano 6 minuti e 50 Eh, non lo so Perché io so che Marce è veramente bravo In queste ricerche Quindi, secondo me Lui ci batterà tutti quanti Però, almeno io voglio arrivare sul podio Quindi, vediamo se in alto c'è qualcosa Ma stiamo No, no, stiamo salendo troppo, ragazzi Stiamo salendo veramente troppo Questa cosa qua Non va affatto bene Uh, qua ne ho lasciati un po', mi sa Non so se ho scavato in questa zona o meno Non mi sembra Però, raccogliamo almeno Questo qua di Kendall e di Loco Vediamo se ce ne sono altri nascosti Li sapevo che erano nascosti Ok, ottimo Vediamo se c'è qualcosa Siamo sempre all'altezza 30 Quindi, non va bene Ah, questi qua di bella faccia Non avevo neanche notati Molto, molto male, Marco Molto, molto, molto male Poi c'è una caverna Uh, belli Questi qua di Buddy Molto bene Siamo scesi un sacco di approfondità Siamo a livello Ma no, i diamanti Contano qualcosa i diamanti, ragazzi Non lo so Io li raccolgo Che comunque magari contano Qua abbiamo il buon DeMarcone Prendiamo tutto quanto, ragazzi Ottimo Poi, là in fondo c'è qualcosa interessante No, mi sto incastrando nella lava Mi sa che ho trovato una caverna Molto piccola E questa cosa qua Non ci dà per niente una mano E infatti non ci darà una mano Sto facendo un sacco fatica A trovarne quelli, Steph, ragazzi Veramente sono pochissimi Non so se sta cosa qua È fatta apposta Ma mi sto anche incastrando In varie caverne piccolissime Minuscole, dannazione Vediamo se c'è qualcosa Nascosto da qualche parte Anche se il buon Madamarce Tutto che non si può fare branch mining Ma faccio giusto uno scavo veloce Magari tra i muri Per vedere se trovo qualcosa Ma mi sa che ho finito tutti quanti Quelli nella mia zona Più o meno Però devo controllare sempre il soffitto Perché ogni volta ne balzo un sacco Il soffitto, vero? Quindi sta a me fare Che erano anche vicini Bella questa cosa Prendiamoli tutti quanti Per favore Mancano solo tre minuti Di qua si poteva scendere però Uh C'è una nuova caverna C'è una nuova caverna qua sotto Che fortuna Ottimo, ottimo, ottimo Prendiamo questa qua di Roby Che bella che è la dripstone lì Che scende in questo modo Ragazzi che figata Togliamo sta acqua C'è qualcosa di interessante Però no è chiusa Eh provo a scavare sotto No, attimo Uh Ottimo Ottimo ragazzi Scavando sotto abbiamo trovato un'altra caverna Ancora più Piena zeppa Muoviamoci 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 Diamo ancora Diamo ancora Diamo ancora Guardate quanta roba c'è su sto soffitto Mancano solo E unicamente Due minuti Adesso vi lascerò il mio faccione gigantesco Iper carico Che è pronto a trovare altri minerali Quindi prendiamoci qua Bella faccia di Mark Subitissimo qua Che c'è veramente tantissima roba ragazzi Poi là abbiamo lava Redstone Che non ci interessa Perché quello che ci interessa di più Era questo buono e bellissimo Madame Arci Vediamola In fondo c'è qualcosa No Solo e unicamente lava ragazzi Però secondo me possiamo trovare qualcosa Di molto utile Là c'è della fere L'abbiamo altra fere che è qua vicina ragazzi Dobbiamo saltare sopra i blocchi Così non ci rompe le scatole l'acqua Saltiamo 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 Allora Altri minerali di fere ragazzi Vedete che ce la possiamo fare Io voglio arrivare assolutamente Almeno quasi vicino a Buon Madame Arci Quindi prendiamo anche questi quadinico Veloci 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 Allora vediamo Qua abbiamo fere Saltiamo così ragazzi Sulla lava Sull'acqua Sull'ossidiana Su qualunque roba esistente in un universo Pur di raccogliere altri minerali Vediamo se c'è qualcosa che ci sta mancando Allora Là in alto raga ma sono troppo in alto Però qua ho visto che c'è un candle qua vicino Quindi raccogliamo questi qua di candle Iper velocemente ragazzi Super super così Andiamo 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 Corriamo Un minuto e quindici Ok Quelli di candle sono quelli che si nascondono più sul soffitto Come miei guardate là in alto Devo fare un ponte sulla lava ragazzi Devo rischiare di morire Però fa niente Almeno per i minerali Dobbiamo rischiare assolutamente Tutta questa fine Quindi muoviamo Corriamoci qua Saltiamo salgo 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 Velocissimo Per questo caso di marci No Mi è caduto nella lava Però ci sono quelli di Nicola in alto Abbiamo 54 secondi Corriamo 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 Sono molto in alto quelli di Nico Cosa? Il minerale di marci non si distrugge? Cavolo potrei andare a prenderlo Potrei andare a prenderlo Ma rischiamo lo stesso? Ragazzi Per questi minerali Dobbiamo assolutamente rischiare la morte Quindi scendiamo E costruiamo un ponticello qua direttamente Vediamo se ce lo dà Ok ce l'ha dato Molto bene Che figata Allora Muoviamoci 30 secondi 30 e Uh Qua ci potrebbe essere tantissima roba Nico Nico Raccogliamo questi qua di Nico Qua c'è del diamante Raccogliamo anche tutto quanto questi diamanti Che poi magari ci servirà anche il conto finale Kendal vieni qua Kendal Ma io non trovo mai diamanti Praticamente ormai Soprattutto la biguanina Perché avevo raccolti praticamente Tutti quelli che ci sono in giro Ma questi qua ragazzi Sto facendo un sacco di fatica Qua 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 8 7 6 5 4 3 2 1 Dai che ce la posso fare Fine 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 Ce ne ho fatti gli ultimi ragazzi Wow Che figata Non eravamo tanto lontani dallo spawner ragazzi Allora Mettiamo qua tutto quanto per bene E osserviamo cosa abbiamo trovato Abbiamo trovato 46 DeMarc 41 Roby 16 Madamarci 41 Buddy 37 Ferre 45 Kendal 32 Loco 39 Nico 33 Bella Faccia 10 Steph Steph Ho trovato pochissimi